All'inizio siamo partiti un po' a rilento, possiamo dire, ma con l'avanzare della partita ci siamo un po' ripresi e abbiamo fatto un'ottima partita. Continua la favola per il Baseball Softball Club Arezzo, dopo la vittoria nella semifinale dei play-off per la Serie B contro i Red Sox di Paternò di Catania, la squadra retina sfiderà in finale il Livorno il prossimo 18 e 25 settembre in uno spareggio al meglio dei tre, con la possibilità di una terza gara in caso di parità proprio in casa. Il Livorno non l'abbiamo affrontata durante la stagione perché erano impegnati in un altro girone, abbiamo disputato con loro un amichevole pre-campionato, ora è alla fine della stagione estiva, sono sembrati una squadra abbastanza compatta, solida e daranno del filo da torce sicuramente. Grandi soddisfazioni quindi per l'Arezzo Baseball ma non soltanto per i risultati ma anche per aver tirato su una squadra con soltanto giocatori aretini. Sono molto orgoglioso della squadra poiché è un gruppo tutto di atleti aretini, sono molto fiero della nostra compagine. Questo è il coronamento di 5 anni di lavoro, di un giro lavoro in cui abbiamo cercato con fatica a ricostruire il settore giovanile ad Arezzo e mettere in campo una squadra formata essenzialmente da ragazzi aretini di qui locali. E quindi questo è un elemento di orgoglio per quanto ci riguarda perché ci ha permesso comunque di raggiungere traguardi importanti che spesso in altre società sono raggiunti solo tramite copiosi innesti di giocatori esterni. Comunque confidiamo in una calorosa risposta da parte pubblico locale che è ben accetta a venire a supportare i nostri ragazzi.